Le persone affette da patologie oncologiche potranno d'ora in avanti usufruire non solo del supporto medico e psicologico, ma anche estetico. Accadrà a Lucca, Castelnuovo di Garfagnana e in Versilia. È questo lo scopo del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Ducale tra la provincia e la Commissione Pari Opportunità, la Fondazione Banca del Monte, l'ASL Toscana Nord-Ovest e le associazioni di volontariato, il ritrovo di Roberta e mi curo di te, che di fatto metteranno in pratica le azioni concordate. Con questo documento, nello specifico, l'ASL vuole infatti avviare un progetto già sperimentato con successo nei maggiori centri oncologici, che prevede la combinazione di competenze mediche, psicologiche ed estetiche, così da creare un ambiente di cura più completo e rispettoso delle esigenze delle pazienti. Sicuramente è una giornata importante. Grazie a questo dualismo, a questa compartecipazione tra la Commissione Pari Opportunità e il dottor Palestini della Banca del Monte, siamo riusciti onestamente a ottenere una cosa importantissima per le donne affette e non solo le donne affette da tumore. Questa è una cosa che fa sì di riempire il cuore a tantissime persone, specialmente alle pazienti, che in questo momento non possono altro che applaudire a questa iniziativa che è veramente importante.